Vivere un oggi pieno di giorni, con un cuore non indurito, ma aperto alla voce del Signore. È l'invito che Papa Francesco ha espresso durante l'omelia della messa celebrata a Santa Marta. La tentazione di rimandare le cose a domani è sempre forte, ma la consapevolezza che nella nostra vita esiste solo oggi dovrebbe spingerci a moltiplicare gli attimi di fedeltà al Signore, coltivando un cuore saldo nella fede e non rovinato dal peccato e dai vizi. Ma l'oggi non si ripete. La vita è questa. È il cuore. Cuore aperto. Aperto al Signore. Non chiuso. Non duro. Non indurito. Non senza fede. Non perverso. Non sedotto dal peccato. Andiamo a casa con queste due parole soltanto. Come è il mio oggi. Il tramonto può essere oggi stesso. Questo giorno o tanti giorni dopo. Ma come va il mio oggi nella presenza del Signore? E il mio cuore? Come è? È aperto? È saldo nella fede? Si lascia condurre dal amore del Signore? Queste due domande chiediamo al Signore la grazia che ognuno di noi ha bisogno. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.